Ah, ci siamo, ciao belli, io sono Poldo, sono le 20.36, come ogni sera vi do il benvenuto in live, live serale, tanto per cambiare, per stare bene, per stare meglio, voi come state? Quao, 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 voi gato, gato boraca, l'ho detta malissimo, mi dispiace, ciao Nightwolf, grazie di cuore per il messaggio, bro, non importa, ci vediamo in caso appena puoi, ciao bello. Mamma mia, oggi sono uscito da una giornata piena di giardinaggio, fuori, non perché ho fatto io, ma perché è venuto il giardiniere, quindi per me è uno sforzo incredibile a livello mentale, il fatto che qualcuno sia venuto a pulire il prato, poi ho editato il nuovo video e l'ho quasi finito, sta circa 8 minuti su 10, che uscirà lunedì prossimo, voi sapete già di cosa si tratta, ma, shh, poi, non avevo mai visto un intro di una tolei, ma sembra la zanzara, what the fuck, in che senso la zanzara? Ah, il pod, non lo seguo, quindi non ne ho la più pallida idea, e poi che ho fatto? Ho giocato a Rust oggi pomeriggio, quindi, bello, oggi è stata una giornata molto intensa, molto molto intensa, e devo già accendere l'aria condizionata perché stasera morirò, ciao Panganibin, Panganibin, grazie del Prime, grazie a Giopocazzo, Dato, grazie dei 200 bit, ma gli altri? Allora, io ti dico, io ho un problema, io ho un problema, e ve lo dico, già te lo dico a te, io ho un problema, che con Andy e Nico abbiamo sentato delle cose con gli audio che sono sbagliate, non riesco più a metterle a posto, E i miei audio si sentono, cioè, i miei redeem cazzi e matti, fammi togliere dalla parentesi, i sound alert, ok? E i miei, quando qualcuno mi fa la sub, si sente su Discord No, non è vero Te lo giuro, se qualcuno mi fa la sub, tu sentirai, che storia! Ma perfettamente, pulitissimo, e non so come togli, cioè, se lo tolgo si toglie anche a me, non so come sistemarlo Bro, ma che cosa, cioè, non lo so, ma L'ho scoperto l'altro giorno, che ero dagli iNoob, e si sentiva in live, che storia! E anche da Paul gli ho scoperto che l'ho fatto nel Versus, ma nessuno ve l'ha detto Muta gli alert! Eh, lo so, ma così non sento più un cazzo io! Ciao, sono Fedez, vi interrompo Oh, Fedez, oh my God! Vi interrompo, parla? No, 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 ti spieghi cos'è successo con Luis Saltz No, no, vaffanculo, no, vaffanculo, Fedez, cazze massi, perché io quando mi sono fatto, perché io quando, perché io quando mi sono fatto biondo platino, ti sei fatto biondo platino anche te, e in quel periodo stranamente hai chiamato tuo figlio Leo? Eh, lo spieghi? Io sono incredibilmente pericoloso nei confronti del figlio di Fedez, questo è un messaggio della famiglia Ferragni Sì, questo è Leo? Ciao, Berro! Ciao, Berro! Ciao, Berro, come state? Leo è il panda dei mates Bello flonzo No, dai ragazzi, palesemente io sono surri, vaffanculo, non può uscire da sta roba Ok Stavamo parlando prima che tu sedia, sei Vegas No, per me io sono Vegas Bisogna fare i fuori tra Poldo e Berro, che è anima e che è Stepney Bello flonzo Eh, Stepney Io sono Stepney perché c'ho gli occhiali, no? Scusate ragazzi, posso dire una cosa? Vai E Poldo è anima perché si è fatto la Sabri Gamer una volta Bello flonzo Veramente? Bello flonzo Sì, non lo sapevi sta roba qua? Ah, porca troia, veramente Poldo? Sto solo io sentendo le caccate che sta dicendo Poldo Che stava dicendo? Bello flonzo Vedo, vedo con piacere che nulla è cambiato, ragazzi Assolutamente niente, assolutamente davvero Ma visto che sembra così che è una chiacchierata in amicizia Qualcuno di voi tre, viene a Rimini Comics Si è scopato effettivamente Sabri Gamer? No, cazzo Leo, chi cazzo è che la conosca? Vedete una calmata, ragazzi, guardate che abbiamo iniziato live da 5 minuti E già stiamo dicendo cose che non dovremmo dire Tipo che Vegas non è il mio preferito Bello flonzo Sorry Ma che cazzo è per me? Hanno tolto il tempo, ragazzi Comunque ciao alla chat di tutti Ciao alla chat di tutti Ciao bellissimo Oggi live con i mates Ma abbiamo sostituito mates Mates, quindi ora Leo è uno dei nuovi mates No, forse questa è la vita Mates, mates in italiano In italiano mates Tomodachi crew Tomodachi life Bello flonzo Una volta se ne si è resi conto che Tomodachi in giapponese amichetti Amichetti è amichetti Mates in inglese amichetti Avevano tutti lo stesso nome praticamente È letteralmente, sì Nessuno ha la fantasia Che vita di merda Tranne i massoni Noi saremo i Freunden I Freunden Allora, i Los Hermanos Era ancora la più quotata Ciao Emma Mototopo Grazie del quarto Los Hermanos, sì Anche poi i Los Hermanos sono intercambiabili Vedi, non c'era Cristo È venuto Leo Ciao Pippo, grazie del crime Ah, così funziona Che bello No, siamo tipo gli Avengers Però ogni tanto cambiano gli Avengers Principali Dipende dal film, no? Purtroppo È vero, erore Qualcuno si fa sostituire Cristo è morto sparato a Ferrara Ma chi? Cristo Ah, però Ah, sì? Durante il giorno del suo trentatresimo compleanno Cristo Ma Cristo è Sparple? Sì Gli hanno sparato? Sì Due volte Oh, ma come sta? È vero Vero, tre volte L'amico l'ha negato tre volte, no? Ma adesso non concentriamoci tanto Su quello che è successo a Cristo Dato che la crocifissione nel 2023 Era una cosa superata Hanno deciso proprio di spararlo Con una beretta Lo crocifritto Lo crocifritto Ma che è sto nuovo meme? Ma te veramente non sei Io vorrei spiegare Non so Allora, belli Belli Allora, avete il vostro Ultimate Chicken Nuggets aperto? Ultimate Chicken Nuggets? No, no Ah, a proposito ragazzi Vi ho inviato la Stream Squad Se vorreste accettare Io l'ho già accettata Poi dove ci scorre già il cervello potentissimo Ma aspetta Sedia Sedia, tu ci sarai nella Pandora 4? Dipende Quando mi inviteranno dirò Sì Qualcuno Ah, tra parentesi Qualcuno di voi vuole entrare nella nuova serie Dei 2Player 1 Console Non so perché me lo stanno chiedendo tutti su Instagram Me l'hanno chiesto Ma io ero già impegnato con Pandora Ormai per me è diventato meme Perché io all'inizio ho detto Boh, sarà qualcuno qualche fan che spama Ma ho scoperto che l'hanno spammato a tutti E quindi tutti i creator Che hanno i 2Player 1 Console Cioè, i fan di 2Player che chiedono in chat Se voglio entrare nella nuova cosa Quindi ora è Mi ricorda molto tipo Vuoi entrare nella Big Vanilla? Vuoi entrare nella Big Vanilla? Fai il rapporto con la 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 Big Vanilla? È bellissimo ragazzi Perché mi si è frezzata la cam Perché stavo chiedendo Diablo 4 Quindi c'è tipo la mia immagine Che tipo guardo verso il basso Mentre voi dite cagate Io sono un meme allora Esatto Un quadro di arte moderna Non so neanche se la live è ancora attiva Tipo, bu Sedi, tra parentesi Oh, ciao ragazzi Scusate il panico Ciao Dato Grazie dei 200 bit E grazie a ChiaSab Scusate se oggi non ringrazierò troppo le sub Ma ci provo Ci provo Ci provo Giuro che ci provo E io ho fatto Se prendo la sedia piccolina Tolgo le gambe dietro Metto tipo delle robe trasparenti La metto in un barattolo E la riempio No, 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 no E ne faccio una storia Era tipo gli slime Gli slime per capirci E facevo una storia In cui tiravo fuori dal liquido La sedia a due gambe Che schifo No, 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 no Ragazzi Mi invito nella lobby No Sì Un secondo solo perché ripeto Non so neanche se sta funzionando BS ancora Fico No, mi sa che è crashato tipo Leonardo Sedi, non posso Sedi, non posso farlo Sì, è crashato Ok, riavvio la live e arrivo subito Sedi, non posso farlo Ragazzi Sedi troppo caotici oggi Vi date una calmata? Stai zitto, bello flonzo Guarda che metti anche te in un barattolo Bello flonzo Ma che gioco è? È un gioco di simulazione di mafia Sedi, quando vuoi ti invito Che tipo di simulazione è? Certo Certo Cioè che c'è tipo i pattern multipli Così posso cominciare a far vedere qualcosa Quelle cose lì È magica tipo un roguelike con la grafica di Diablo Però ambientato, che ne so, in Sicilia Durante il post Unità d'Italia Io penso che chiunque, qualunque casa videoludica Che faccia qualcosa ambientato in Italia Vi vincerebbe un sacco La casa che lo produce è casa Monica Io me ne vado, Leo, davvero, sul serio Allora ragazzi Ma è la prima volta che facciamo stream insieme Ma voi dovete entrare nel gioco Tipo A me sedia non me lo fa invitare Non mi spunta in vita Vabbè, mi unisco alla partita Io ho appena iniziato lo streaming Cioè, non dico altro Gaming Gaming, sai che hai due gambe Ho preso il pollo, ho preso il pollo Guarda E cosa devo fare? Cosa devo fare? Sei in game, Leonardo Aprire Sì, ho qua la schermata La cabeza O gioca in locale Gioca online Quiz Sondaggio sul divertimento Che stai dicendo, Leo? Arriva in obsedia Allora, quanto Gamers Da 1 a 10 Quanto vi siete divertiti voi a giocare ad Ultimate Chicken Horse? Da 1 a 10 Non l'abbiamo ancora giocato Io l'ho appena Allora, zero Mettiti online su Steam, Leonardo Ma sono online su Steam Non è vero, ultimo accesso tre settimane fa Ma che storia Sono online Ora sei online Ora, clicca su di me e fai uniscita la partita Oh, guarda la partita Uniscita la partita Bravissimo Ok, game Stessa cosa per Bello Flonzo Bello Flonzo Bello Io devo parlare con Alice E tipo farti aumentare la dose di barbiturici Non va mica bene, cazzo Perché se così è citato le 20 e 49 Fra Ma mi sono appena reso conto Perché ci sono due Leonardo Bru? Perché ci sono due Perché no? Perché ci sono due Leonardo Bru? Ciao Eh bro, non lo so Aspetta Io sono Impazzito Aspetta Arriverà il disegno di sedia Leo, cosa stai facendo? Non lo so Perché ci sono due Leonardo Bru? Senti, Leonardo Bru La smetti di fare questi giochetti No, no, no Non farti toccare Non farti toccare Non farti toccare Non farti toccare Entra il pozzo Entra il pozzo Ho funzionato Adesso Adesso vi inseguo entrambi No, ma non può andare più Perché quella verde è stupida? Perché è la tua Quella verde è stupida Scemo Scemo Mi ha toccato Mi ha toccato Adesso guarda Tocco sedia Tocco sedia Tocco sedia Sai dove l'ho messa quella frezza prima? No, ci sta facendo senso Ah Che c'è Allora, Leo Ti dirai via il gioco Secondo te Quello è il verso Di quanto io faccio Perché Perché Uno è il joypad E uno è il mouse Non so perché Joypad Ma no, ma togli il mouse Io adesso Ma Barrow Barrow Fronzo Barrow Fronzo Devi toglierti Online Devi unirti a Poldo Trova partite Unisciti agli amici No, no, no Vai su Steam E fai unisciti alla partita Unisciti alla partita Leo devi selezionare Uno di questi Guarda io adesso La partita è il completo La partita è il completo È perché Leo è il completo È perché È shimmo No, no Sapete che cosa è il completo La partita Ecco la Esattamente come me lo aspettavo Esatto con la partita Ed è che è al completo Opzioni della storia Posso avere io il cavallo? Allora Barrow E questo è perché Leo era entrato Prima del controllo Ma ora è uscito Posso avere io il cavallo Sedia No perché In questo gioco Questo gioco si chiama Ultimate Chicken Horse Non voglio essere Non voglio non essere Il protagonista Ho io un emote Del cavallo Sedia Prendi il proscione Perché devo prendere il proscione Perché Poldo Erva Erva mi dice Puoi dire a Poldo Che ha modificato Modificato per sbaglio Il bilanciamento dei punti Il coglione non mi legge più In che senso ho cambiato Il bilanciamento dei punti Non lo so Qua c'è il bilanciamento dei punti Qui Vedi che c'è uno su 90 Polo è a 90 Polo Forse devi fare ripristina A posto Berrofonzo Fai let's go Ragazzi Allora iniziamo a giocare al gioco Leo e Sean Aspettate Aspettate Venite tutti dove c'è sedia Ma c'è una Ci sono altri Che c'è sedia Tutti qui sopra Tutti qui sopra Non riesco ad arrivare Per la copertina Ok 3 2 1 Puzz 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 Perché Zuma su di noi Perché Zuma Rettamente su di noi Se lo facciamo Lo ha capito Lo ha capito Lo ha capito Tutti fermi Screen copertina No vabbè Polo Aspetta Posso fare F2 Posso fare screen Fermo Fermo No Vai indietro Così la B di Leonardo Sesso cavallo Leonardo Brrofronzo Guarda che bello Leonardo Brrofronzo Faccio stesso con un cavallo Dai forza Che facciamo Tetti No Facciamo Tetti Facciamo Tetti Guardate ragazzi Sto ballando Dance Perché tu dance Anche io danso Gamers 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 Allora io non ho idea Di cosa sia sto gioco L'ha scelto sedia Ma non dire stronzata Che non sai cosa si faccia Con questo gioco Allora qua dobbiamo fare Un ponte Per 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 Madonna ragazzi Che sincrono Attenti però Metteteli bene Cos'è la mia ruota Cosa fa la mia ruota Io ho una ruota mielosa Non ho idea di cosa faccia Allora dunque Il senso è Che dobbiamo arrivare Alla fine Un percorso Ok Che sia tipo Semplice ma non troppo Gamers E mi sa che abbiamo perso ragazzi Guarda E invece Gamers Gamers X Se hai il controllo Dell'Xbox Vaga io ho un problema Io ho un problema Sì Devi saltare Sono allergico al miele C'è un lato senza No non posso usare Il lato senza Ce la puoi fare Ce la puoi fare Io ho il cortisone Vieni dall'altro lato Tra l'altro Il cortisone Però vieni Arrivare Poldo Poldo È molto importante Tu sai che C'è una persona Che tra l'altro Fa ovviamente parte Da tua community Perché se no Figurati Che ha la fobia Del miele Non sto scherzando Questa qua Ha paura Del fatto che esista Cioè quando vede il miele Poldo ha vinto per primo Vabbè Stai parlando con uno Che ha paura Del fondo del mare Ehi Ma che battardo Bisogna veramente Ha paura delle pistole Io ho paura Del fondo del mare Io ho paura Di Berrofronzo Perché non mi ha ancora Visto al vivo Se no capiresti che Ah ma si aggiungono A quelli degli altri Ma sei una scimmia Che cazzo fai No 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 Ma perché lo metti là Gamer Chiamo un dottore Allora lo scopo di questo gioco È praticamente Che noi dobbiamo costruire il livello E poi provare a finirlo Prima degli altri Esatto Non c'è bisogno Che lo confermate ragazzi Cioè io sono bravo Anche da solo Guardate che gamer Sucatemi il pisellino Il pisellone volevo dire Onè Ho detto onè Ho detto onè Ho detto onè No sedi è morto No sedi è morto di nuovo Sedi è morto due volte Come Gesù Il mio cadavere è stato Non ci credo che ce l'ha fatto Un pezzo di burro Ma sono un gamer Ma questo qua passa tutto il pomeriggio Tra l'altro Non l'ho mai provato Tra l'altro prendi punti supplementari Se come si chiama Gli altri muoiono nelle tue trappole Gaming Io riempio di mele ovunque Così sedia poi deve toccarlo No ma io sono allergico Sedia puoi avvisare Poldo Che nelle live di Mario Kart Ti ho fatto vedere scusami Lo dice amico Grazie Va bene Guarda il gamer Oh ma come fai Nooo Con lo shift sprinti Ma non è possibile Ho preso quella cazzo di cosa Dai stai sedia Vai sedia Sei l'unico gamer Vediamo sto pomo Devi avere Zuffalo Che ti canta le canzoni di Spirit Nooo Che stupido Guarda che sei morto anche tu Come un coglione Ma perché ne sono vincitore Perché Poldo doveva Perché è stato troppo difficile Capito E infatti Oh beba nominare L'ho presa Ho fatto una serie di strumenti di morte Per distruggere Le cose Capito E questa la metto qua Così Poldo smette di essere un gamer Gaming? Non so cosa ho fatto Bravo Poldo Complimenti Non molto Non molto Ma non serve niente questo Ma non serve niente No ragazzi sono morto No sono morto Sono smorfo No ma Bellocchio Questo update Ragazzi ma fate cacare Dai Leonardo Io mi identifico Attento al gaming Attento al miele Io mi identifico Nel figlio di Selvazio Lucarelli Ce l'ha fatta Non l'ho capito Non l'ho capito Tutti che sono morti Su la tua trappola La mia trappola ha fatto la morte Bombonuclore Lampione è un Come si chiama? Vabbè Lampione no Allora a me questo qua Mi sta sulle palle da morire Quindi Anzi no Questo Perché devi distruggere tutto? E adesso dovete fare i gamers Ma sul serio? Cioè basta solo quello? No ragazzi non ci credo Leonardo Di Inverto Ti giuro sono felice Sono felice Di aver fatto del gaming E ce la fa No ragazzi tremendo Gaming time Io chiamo i vigili del fuoco Come i vigili del fuoco? Perché che è successo? Niente siete cattivi Ah ok ok La sigla dei vigili Assolutamente sì La sigla dei vigili del fuoco Trentini È voltare i vigili del fuoco Ed è VVF Ma che micchia fai? Cosa? Clockers Game time tv Sono stato cattivissimo No cos'è quel fan? Buttatelo fuori dalla fiera Vabbè hai rotto tutto Ma è montato al contrario Non funziona quel ventilatore Devo farci un video Scrivili 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 Oddio santissimo Ma funziona a cazzo di care Cos'è successo? Non lo so Ho rallentato il tempo È stato Ah perché c'è quel cazzo Sì stupido No dai ma che cazzo di sfiga Madonna Non è andata bene boys Non è andata per niente Ho vinto Ho vinto Ho vinto Sono il king di questa merda È proprio il più grande gamer È il più grande dei gamer Leo Leo È solo un gioco Per te è un gioco Perché perdi Allora signori Senti l'abbiamo fatto Facciamo la fattoria La fattoria Guarda come ballo 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 che sballo Come dice ninja Se tu lo consideri un gioco E basta Sei un fallito nella vita Bello flonzo Stai fermo porca puttana Madonna quanto mi piace Farti incazzare Adesso guarda Vado di qua Poi vado di qua Poi faccio questo Io adesso Io adesso vi spacco la famiglia Oh bro no Ah io mi fa malissimo Era che è bello A trovare i giochi del cazzo Senti A giochi a rust dopo? No È bello giochi a rust dopo? Eh no L'ultima volta che l'ho fatto Mi è venuta una sincope Ma nella vita reale proprio Ragazzi però non vale così Ah ok grazie A posto Spacco famiglia Cosa devi fare In questa Romania Ah è sempre farmacia Fattoria Farmacia Sceglierò questo Sceglie quel blocco Di cobblestone Di tufo È tufo L'ho scelto io No bro Lo faccio così Merda E adesso Quindi Avete solo Un blocco Di tufo Gaming Oh ma si rompe Gamers Cazzo Oddio Madonna Sedia Il controllo No Il blocco Di tufo Sì Ce l'ha fatta il polgo Ma vabbè Ma senza tufo Mamma mia Berro fronzo Primo Sto ne sono Divo nei commenti Di youtube Giusto perché Era già della cosa Ah chi ha preso Il blocco di tufo Io Ma quindi il blocco Precedente muore Ma cos'è Perché l'hai messo là Berro Ma perché Non lo so Ma perché Ma tu stai giocando Sul serio Come se il gaming Scorresse potente Dentro di te No le palle mie E dei miei Godopoli Madonna ma Berro ha fatto la Niente Berro è stupido Niente Berro Berro ha fatto No di con quello Mi portava a fare Il traguardo Grazie Davvero Comunque questo è un bel gioco Se non fosse Che siete tutte e tre razzisti No No io ho spesso Io ho spesso Ma tolla Già adesso Bucco nero Cos'è il buco nero lì Ah è quello dove Al gamesweek Bisogna metterci dentro il pippo Per poi vedere se esci O vai fuori No quello è Tu si che bales Vuoi veramente Aspettare la cosa La cosa E dei fantastici 4 Che cazzo hai fatto Sono entrato nel buco nero Ragazzi Nero non è Non è Per quello che pensate Berro Leonardo muori Muori subito Non ci credo Ci sta Se il Leonardo Bru vince Questo gli compro Imbecino Meno male che non hai finito la frase Sedi ha cotto in 4k For being racist Obiettivamente È un po' commesso La cazzo di cane Quell'affare Sedi ti vorrei donare 10 euro Ma solo 1000 euro Vabbè bro Cos'è Senti vaffanculo Io faccio esplodere tutto Non ho fatto esplodere niente Io faccio esplodere Tuffo Così in maniera tale da farlo Va bene Non ho capito ora Come funziona la vita Aiuto Madonna Che razza di culo Mamma mia Che provata Ciao Gesù Cristo Cosa ho fatto Bravo perro No Oh sì Invece ce l'hai fatta Sì sì Ovviamente Comunque questo gioco Ha delle vibes Sì sei stato più scarso di Berro Ma come cazzo si può fare Non è possibile Questo gioco ha delle vibes Da gioco flash Su gioco.it Di anni fa Non so perché Gioco.it Ma cosa cazzo Hai tirato fuori Il mio gioco preferito Flash Flash e flashlight Molto carino Non mi sa Io non ricordo Chi aveva invitato Leo Scusate Lo metto qua Lo metto Flashlight Poldo Adesso voglio dire L'ho messo io Per favore Buona fortuna No Poldo si su Cos'è successo Poldo Cioè ascolta No Mi ha preso No No Bene Adesso c'è il tuo momento gaming Dentro di te Madonna Il gamer Il gamer No Berro Beh era un imbecilo Aniquilito dal gaming A fine live puoi fare una recensione del gioco Ma certo che posso È appena partita la musica di Inception A Berro Cosa È appena partita Inception E sei entrato nel buco nero Che è la porta Luke Nero Ma casomai Interstellar Scusa Questo che sputa Eh cosa ho detto io Sputti palla Questo è lo sputa palle Allora io questo qua La metto qua Così chiunque vada in mezzo A questi due rimbalzini Ma che cosa sta succedendo Cosa sta mettendo Quella roba Cos'è che Spara palle C'è una persona che mi sta mettendo Il foro Oddio santo Fra Fra Abbiamo fatto Di ultimamente Chicken horse proprio Una felicità imbarazzante No Il lanciafiamma De merda Porco Di No Poldo Di cosa Di quello Ma quello è Bruno Signori Ciao Bruno Ma Berro è fortissimo Berro ha già vinto È fatta Vai Berro vai Pronto Lanciati 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 Bravo 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 1 2 3 4 Berro virile Oh ma guarda come c'ha No Guarda No perché mi ha dato Allora mi ha dato il bonus Sfavorito credo Che è sta roba No Twitch Twitch Prime Ah ma la gente può votare in chat Wtf Io ho preso il soldo Cosa fa Ci sono i voti tweets Cosa fanno i voti tweets C'è scritto parole chiave presso partybox.org Chat se volete capire che cosa potete fare voi in chat Scrivete Allora io la metterei qua la porta Io ho messo lì la cosa Qua veramente dà più fastidio del fastidio Gaming Perché è una moneta? Sedio Permesso Madonna se ti ha scrivuto un fiore Voto bomba Ma che cazzo? Jovox ha scritto bomba E c'è stato un voto bomba C'è una moneta Spammate bomba in chat Madonna mia Io non lo so come funziona Non lo spammate bomba Allora su partybox.org Ci sono delle parole che potete usare L'avidità ti ha portato a Succare il cazzo Niente È finita Ragazzi su partybox.org Vanno votando Eh ma stanno votando solo bomba Perché stanno votando bomba e basta Chec bomba E c'è bomba Chec bomba Ha bomba Peso su chi mi cazzo No ha vinto lui Ha vinto per ordronco Ma quindi se scrivono bomba Sono bellissimi Io scrivo bomba Bomba Vedi moneta buconera Sti votando anche dalla mia chat Davvero come Ma che cazzo Ma lo potete scrivere No le potete scrivere su partybox.horse No 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 Si devono scrivere in chat Ah si devono scrivere in chat Leo puoi mettere party per favore Leonardo Ballo Eh Leo Ballo Ballo dell'odio Questo è il ballo dell'odio Ballo del razzismo Ballo delle cose pessime No Non puoi ballare il razzismo No fermo Non fare il ballo del razzismo Fermo Fermo Come stai su Twitch Allora metti i party Metti i party Per lo funzo Aspettate un attimo Aspettate un attimo Devo cacare Aiuto Aspettate Siete rifallo Rifallo Cioè due livelli sbloccati su 19 Ah Io sono proprio Io voglio una banca di tuffo Com'è che si balla? Andiamo tutto Devi prendere dei premi Andiamo a bikini botton Bikini bikini Mi piacciono i bikini Bikini botton A chi non piace Bikini boblum Bikini boblum Ah si tipo la toro di bikini Tuffo ragazzi Potete sbambare Distributore jet Ah ma stanno votando Le cose da darci Praticamente così Wow Fucking gamers Qui c'erano solamente bombe Cosette nucleari Wow Questo gioco è diventato Molto più bello adesso Grazie alla chat Grazie a voi Ma dove cazzarola? Bello start È tutto strano qua Bli bidi bambi Bli bambi Bli bambi Eh? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Perché c'è i nomi Della gente che ha votato? Eh Non lo so ma gaming Ma sai che ho letto anche il nome Della bellissima ragazza Che scrive in chat Wow Leo Complimenti Non dovevi dirmi il mio nome Basta però Basta questo meme Ha rotto le balle A me piace troppo usarlo Proprio nei momenti E se Poglio ti dice Questo meme ha rotto le balle Vuol dire Ma ragazzi Allora ragazzi Io devo venire fino a là No? Ok Ma scusa Se qualcuno scrive in bomba Alla mia scelta Viene votato bomba? Sì Ma così automaticamente Senza neanche la Ecco bomba Ah no Forse è solo da me ragazzi Niente No da me Troppo facile Niente punti Boh Eppure da me Perché ho collegato Il nome utente Ah se fate start C'è Twitch E potete collegare Il nome utente Ho voglia di farlo Questo è il fatto No Start Twitch Riclicarlo Il mostro Ma sì ma io ce l'avevo attaccato Vediamo Poldo Smettete di mettere merda No bastardo Brutto bastardo Che stai succedendo Ma perché io non posso Mettere le cose Perché va Va appoggiato Va appoggiato sul pavimento Pavimento Io ho rotto il buco di Poldo Bastardo Tanto hai spaccato Un buco nero Con una bomba Non so quanto sia Canonica Come cosa A quanto pare Ora lo è Wow Ma perché si li vedo Al contrario C'è tutto sbagliato Bomba ragazzi Bomba ragazzi Una madata ragazzi E ben ritrovarsi Dal vostro ciccio gamer Comunque Dire ciccio offensivo Sì no anche Berro Durante il mese del pride Che dice tutto sbagliato Berro Tutto sbagliato Non è tutto sbagliato Dipende da chi sei E che cosa vuoi C'è però Berro Ci sono collegamenti Talmente assurdi Che mi devo sforzare Ma com'è troppo facile Niente punti Ragazzi stiamo sbagliando qualcosa Vuol dire che cazzo Adesso cazzo Sì ma Perché nessuno Sta prendendo punti Ma è troppo facile Il livello Esatto Non abbiamo come uccidere Gli altri Non prendiamo punti Dalle cose E se vediamo Fra qualche round Monetina Eh sì perché Se no è troppo facile Ma perché il livello Al contrario Volevo capire Eh anch'io Quello volevo capirlo Io ho capito C'è la gente Della mia staglia Che dice Io ho capito ora Che berro il procione Trattoria sul mare Piombino capitale Leggo in cellulina Non so Di che si tratta Ma che cazzo Tra yard a Poldo Piombino capitale Ma sto sparando Cioè sto sto Ma donna Poldo Vai Rivals Sì ma tanto Poi ci sono punti Nemmeno se arrivo prima Poldo tu hai mai fatto Rivals Oh no Non riesco ad arrivare alla fine Oh no Sono incastrato Wow sembri un lemure Di Madagascar Di Masterchef Di Masterchef Niente punti Eh oh Va bene ragazzi Allora io adesso Va bene ragazzi Adesso vi faccio L'unico Scusatemi sta cazzo Di palestra Di palestra Di fare No no ti prego Quella cagata là No Ti subo Allora Tetris mi ha insegnato bene È questo Sì ma non ci passa nessuno Dalla I'm sorry Io ho fatto Questo 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 Dove cazzo è Inverto Non puoi dire inverto Nel mese del prime Però non funziona Del prime Ok devi mettere prima quell'altro Nel mese del prime Ah no ma che schifo Ah no Non si dice neanche Anno bro Smettila Ma dove state andati Stiamo No ragazzi Non ci posso credere Verro puoi vincere Verro franzolo Ma è stato Che la franzola Ce l'ha fatto Voglio il var Voglio il var Voglio il var Voglio il var Eh non c'è il var Sono il vero gamer Calma bro Come fai a dire Non lo voglio più Ok Non lo voglio più Lo puoi dire I don't want it anymore O non lo voglio più In italiano In tedesco Se dici gamers Puoi farlo In chi è? Ok Scusate Vai sedia Non farlo No sedia 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 Fermo Qualcos'altro Cazzo No fra Questo Vabbè Sedia Se è schibile Vabbè Ti muovi Si sto scegliendo Statevi calmi Esprimere Cos'è quel pinguino Cosa serve Pinguinos Ragazzi Io sono il cavallo Se me lo state chiedendo Quello con scritto Sedia Chicken Cosa cazzo è sta cosa E adesso Cosa cazzo hai fatto Poldo Ma Eh vabbè Sei bravissimo Sei il godu gamer Sì Secondo me Secondo me Perché Poldo A cazzo Senti Senti l'odore di pollo E focato No Ce l'ho fatta Sì Sì Ok la mia trappola Ha funzionato Buconero 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 Ragazzi io sto per prendere Un altro Buconero Vediamo un po' Questo rometto Qua Quindi così La gente non potrà Fisicamente Buconero Sì La gente adesso Non può fornare Esatto Va Hai attivato il teletrasporto Leo Grande Vai Entra il teletrasporto Vai Baci No Sì Oddio Mi ha deviato Grande Leo È morto pure Leo È morto Leo Ucciso Ma non vale Oppure vale Io non posso Passare Ragazzi Tu si che vale Ah la famosa La famosa citazione Di signore Pianelli Adesso l'ho capito Si è impollato Nessun vincitroia Si è impollato Bicchini bottom Non è entrata Nel teletrasporto Mi raccomando Barile Ragazzi Barile Ballo di fieno Barile Come si fa Ad entrare Non ha senso È tremendo Ma voi avete messo Prego il figlio Spiato Merda No ma perché hai messo La lettera Trasporto Idiota Bello Flonzolo Bello Flonzo Bello Flonzo C'è una streamer Che veramente Mi chiama Bello Flonzo Siamo molto amici Bello Ma perché sono scemo Flonzo Quella streamer È Vabbè ma tanto voi Non potete passare Di che mi preoccupo No quello streamer Si chiama Chiasarin Fa League of Legends Oh mia tol Puttana merda Come si passa da qua Non si può mi sa Perché c'è un big Devi premere insieme Avanti e giù Come su Street Fighter Slida 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 Poldo Slida Eh ma non si può slidare Ma una sedia Respira sott'acqua La sedia non respira Boys Prova Prova a fare Come su Minecraft Vai Ma le sedia Non respirano Hai un sacco di cose In comune con mia nonna Pff E Poldo Sì Devi provare a rompere I cubetti Come su Minecraft I passettini Minuscoli Ragazzi non posso fare Gravier Grazie per il ride Purtroppo Treni B per rinunciare Vai rinuncia Però voglio vedere Te che muori Gravier Hai fatto i punti Nella pill Ciao Gravier Grazie per il ride Ciao Di cosa sei morto Stiamo giocando a Bikini Bottom È morto È morto di basta Bikini Bottom È morto di resa Bamba è bomba Ragazzi Bamba Punto là Stupidi scemi Cronometro Bikini Bottom No 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 adesso La rompes Romperinos Imbessi Il problema è che c'è quel cazzo di cosa messo là Berro fa scoppiare quel buco nero E invece Berro decide di sprecare la sua bomba Magari Magari È Berro ragazzo Berro frangis Sono io Ha funzionato Ma dai Sono sponato sulla freccia Sei un cretino No arrivano le frecce Le brecce Le frecce Arrivano le frecce Nel trasporto Bellissimo Ma ti è schifo Ti stavano Che forte No poldo Aspetta che voglio che tolgami il cadavere di poldo Che è più divertente A cosa serve la hay bale No L'hai chiamata hay bale tra l'altro Ho aspettato Ho aspettato troppo Ho chi Nessun vincitroia Nessun premio Nessun punto Allora ragazzi Io voto Io voto Poi dalla webcam è in mezzo Ma tu sei in mezzo Hai ragione L'ho sposto Scusa Chronomero Io ce l'ho dove metterlo Il bronze Cosa fa ok Perdonatemi Lancia via dei dischi Ragazzi non mi spammate In chat in basil Smettetelo Entra nel teletrasporto Che mi rischi Mi pare porta Il teletrasporto A sto giro Ma come si fa Ma boys Ma quanto c'è Ma cazzo Mi hai preso la cosa sbagliata Ma si è Il teletrasporto cesareo Arto cesareo Poldo dai Secondo me sei abbastanza gamer Per andare di sopra Ci provo Guarda No ma non lì Madonna Ma perché devi fare lo stupido apposta Non so che non sei coglione Dai Ok Berro dopo questa frase Penso Devo rivalutarla Scaffoldo Sta diventando sempre più brutta la cosa Allora qualcuno deve Cos'è una ruota? Prendi la bomba Naruto? Prendi la La devo mettere La torta al costumarille Che non mi piace dove l'ho messo prima Che ti piaceva Io Io Cosa qua Perché l'hai messa là? Cosa c'entra? Non lo so Non ho idea Questa qua non è proprio Ragazzi Non so spammando parole in inglese Tipo Io questa qua la tolgo Perché No quello là ci muoio Sono sicuro Seganastro dovete scrivere Ragazzi Sono super balvazo E invece sei un pollo No io sono un pollo E io sono una pecora Sei un poldo Ciao L'ho fatto tutti tranne me Bastardi Tranne te Tranne te No ragazzi è impossibile Dove si gira E invece è possibile Tuttavia sei andato dal lato sbagliato Perché Lì ti aspetta una trapalaz L'ho scoppiato No Dio salto No ragazzi Atroce Godo Godo Siamo due deficienti Che Godo Liner so Sì Dì Siamo due cretini C'era fatto C'era qualcuno C'era fatto a bastare fermo Linus Tech Tips Linus Tech Tips Lino Lino Stepney Linus Onagog Lino Onglog Che cosa? Attento Attento Perché che ho detto? Chatsat Votate Votate Le cose Dai Per l'amor del Cern Ragazzi Per l'amor del Cern Ti odio Leonardo Mamma mia Leonardo Ok Sono bloccato Non l'avevo valutata Questa cosa No Ma ti vuoi dare una calmata Guarda che poi dimmi Prende le pillole Sto tutto squid game Quindi secondo me Finirà Allora Holdo Guarda 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 cosa faccio Il tuo cadavere Un bacillo Un bacillo Però io C'ho un problema Sono bloccato Nel terreno I bello Non ci posso credere Non ci posso credere I did it No ragazzi Che palle Ciao Io sono rimasto Sei ancora là dietro Io le facevo All'oratorio Io sono quel personaggio Che nessuno pensa Che può vincere E poi alla fine Ce la può fare E mi è premuto a B Per rinunciare Pure al gioco Che imbecillo Ma cosa facevi L'oratorio È come questo gioco Vinceva Non è quel posto Dove ci sono tipo I bambini piccoli Primo Sono primo Ma io non ho vinto niente No tremendo Devo vincere Che god du gamer Usero Allora ragazzi Se io non sto vincendo Non deve vincere No Non è impossibile Non si può Non si può uscire Dai Leo E ora No ragazzi Io non ci posso credere Wither lol Scusami Allora Ma il Il buco nero Dopo un poco Si esaurisce Cioè nel senso Se continuo a morire Perché mi posso Sacrificare Per la massa Se volete Allora ragazzi Io so che il teletrasporto Ti porta Eh lì Dove? Ah lì dentro Tipo? Ah ma si può tornare Sì sì è sicuro Il teletrasporto? Ma il buco nero Poi non finisce Ah poi si può Anche tornare indietro Ma perché abbiamo invitato Leonardo Chi è che ha chiuso Tutto quanto qua? Chi è stato? Abussatore di condominio No ragazzi Probabilmente Tipo si può Trovare questo No no Tedia No ma no Oddio Se andate assieme Potete usare Usa il succhiopoldo Usa il succhiopoldo Vai no Ha funzionato Buonanotte ragazzi Possiamo togli Non so Ragazzi Io non ce la faccio Ma ha vinto Il berroflonzo Ma sono Sul serio E siamo 2 a 1 Ragazzi La superiorità Del bello flonzo Immagina Immagina Io non voglio mai più giocare Oh sì Berro ultimate horse chicken E l'orso e il chicken Hanno 0 punti Io sono Io sono Io sono veramente indignato Nei vostri confronti Talmente Indignato Subito Talmente Tanti Indignato Leonardo L'orso e il chicken Grazie ragazzi Che sono bravo A fare la serie Leonardo Devi venire sulla piattaforma Eh non Ma io ho la freccetta Cosa devo fare? Cliccare la pecora Eppure velocemente Eh ma non Eppure velocemente Ecco A posto A posto Arachidi No non ci sono Gli arachidi Arachidi Mamma mia Arachidi No I ragni sono arachidi Arachidi Ma sono tipo Quegli Che però ti fanno fare Il suicidio giapponese Le arachidi Però devi scegliere qualcosa Grazie Oddio Aspetta dove cazzo è che si inizia Di qua Ok Quindi qua Ci deve essere un momento gamer Perché bisogna No ti prego Non fare quella merda Ti prego Ti prego Infilati quella supposta No 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 Dai dai No vi prego Cosa state facendo Mettilo vicinissimo al traguardo Tipo che è inutile Non si fa niente Avete visto la faccia come si deforma Quando lo metti in un po' Il mio tempo sta finendo Io lo metto qua Infame Scusate ragazzi Dovevo contenerlo Eri emozionato Non rompere il tuffo Borgo tuffo Borgo tuffo Sembra una città di Fortnite Oh mio Dio C'è la lava Ma veramente C'è la lava come su Fortnite? The Flores lana del re No lana del cosa? Grande No Vai a destra Vai a destra E ci provo Mi è caduto dritto Oh no No Però sono caduti con una sincronia Veramente invidiabile Che bravo Ragazzi Sarà pure fatto di lava Ma resta comunque un mare migliore Di quello di Rimini Incredibile Guarda la skill Battuta sulla Provolezza Italiano E io penso che la metterò Io per una volta ho fatto qualcosa di giusto Faccio anche cose buone Che scemo che sei Aspetta che devo rovinare il gioco a sedia What a fucking infame Non puoi metterlo alla scemo L'ha messo Io lo prendo lo stesso No Che mince Ci trovo Bastardo Bastardo Ah schifo sedia morto È morto? Ah schifo sedia morto Oh è il mio cadavere Un po' di rispetto Un cadavere di sedia? Smash Oh cazzo Oh cazzo Vai perro Vai perro Aspetta 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 Oddio santo Corri perro Corri Stiamo giocando a ultimate chicken Pito Pito Corri vai perro No perro Vai perro Non ce la posso Piaro Piaro Ancora ancora Vai ancora Vai ancora Scalino più su Devi salire sul gradino Sì il rudro Sì il gradino Ancora stali Sali 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 Vai 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 Stai calmo Stai calmo Tienelo più a lungo Premuto Fai un salto più lungo Fai un salto più lungo Perro 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 Devi tenerlo premuto a lungo Perro 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 Tieni premuto P Tieni premuto P Non riesco Bravo Mi sono l'unico scemo Sono io Oddio Tutti con quelli con tutti gli arti erano sopra Porca troia Adesso Ciao Quella supposta è stata distrutta Sì Scribidi bibidi 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 Sette persone Che bastardo Ma che cazzo devi fare Dai Poldo Così impari Stupido bollo Ma non si può mica provare a citare in questo gioco Cioè ma dai Stupido Chica Tu puoi essere un tri-farber Chicken nuggets Che carini Che piano andate Cos'è che hai detto scusa Ho detto nuggets Bro 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 Ho detto nuggets Era nuggets Chicken nuggets Sto lontano dallo stress Fumo un po' E gioco gioco A pes Gioco gioco No come troppo facile Niente punti Sul serio Falliti Potenze mondiali Stupide Prendete il jetpix Il jetpix Cos'è che dovevamo prendere Scusa il jetpix Nessuno tra l'altro sta andando da destra Chissà come mai Che ho messo il jetpix L'ho messo lì Il jetpix Ora dovrebbe Che bastardo Dai Ma come si fa No io non ci vado Basta Io faccio il bello flonzo Ascensore Sai che è ascensore Se muovi le lettere Viene fuori Piero Su che è dizionario Te lo giuro Cato poling Mori mori Bero Sennò non prendiamo punti Dai Bero Dai cazzo Sono proprio Un cuore a questa freste Sì Un partito A sette stante Bello flonzo Adesso questo qua Lo metto veramente Allora io non so che cos'è questo Ma lo scopriremo presto Guardate Cos'è? Adesso Cosa tolgo? Sì vabbè qualcos'altro Cazzo Quindi io direi che Questo è il momento giusto Per mettere questo qui Ma perché l'hai messo là? Così in maniera proprio Da rendere impossibile No fermi 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 Lars ha avviato Yu-Gi-Oh 2 links Giusto per dirvelo Ok era Era giusto Era giusto per fidarvi Di questa cosa Su twitch Non lo so Aiuto ragazzi Che ansia Ce l'ho fatta Ragazzi ma perché Beccatemi questa Ragazzi Berrofronzo Sembrava un criminale Berrofronzo È un criminale Attento No berro Non toccarlo Vai 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 berro Toccalo 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 Sta menando il fiore Ballo del sesso Quasi lo dittoria Wow Ho quasi fatto un punto Con due morti Ma come sei arrivato sul pold Fammi capire Eeeh Come te Io non sono arrivato sul pold Binges Sì stavo sfruttando Cosa ho preso io Aspetta adesso ti rispondo Chicken Magger Allora dove sta Dove si mettono questi E qua Questo Lo metto sul Cosa di pold No Bro adesso come cazzo No Ma perché l'hai messo all'altro Il serio Avete messo una cosa lì Che non c'entra niente Adesso dovete tutti morire Con il mio coso rosso Bru Non è morto Che si è preso una meteorita Infatto Eh ma no È desigato È per quello Bravi ragazzi Bravi Bravi Complimenti Bravi Voi siete degli animali Comunque Cioè non solo Perché vi rappresentano Dai Cristo Madonna del Signore Ti ha menato il fiore La natura Si riprende il suo posto E adesso lì come Niente Ci ho provato Eh ragazzi È impossibile Guardate il perro Guardate il perro Guardate il perro Guardate il perro Che lo sta continuando A menare il fiore Oddio Quanto godo Porca troia Siete entrambi morti Su due mie tragole Cosa hai fatto Hai rotto l'unica cosa Che ti poteva far vincere Ciao amici Prendendo questa Che l'ha preso La chat Ora esplodo In fazza A sedia No bro No che stupido Eh non vince nessuno Regà così Leo Leo fai esplodere sopra Fai esplodere la cosa Che ha messo bene Ok Se no non vince nessuno Fatto Però sei un coglione Cosa fa sta cosa No No Io odio quell'uomo Quell'uomo Proprio Mi sta proprio Antipatica Madonna Senta Poldo Bravissimo Io 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 Non so perché Mamma mia C'è ancora bro Metà uomo Metà merda Ma lo potevate prendere tutti Babbuini Ma non ti ha colpito qualcosa Berro Eh no Perché è desincanto Quello che vedi te Non è quello che vede lui Madonna Che difficile che è così comunque Fai schifo Fai schifo Poldo Fai schifo Fai schifo Fai schifo D'Aurimpo ti dovrei rivolgere a me Come Poldo Cannone Che orrore Che cazzo di roba Cursata Dove fai a dire queste cose Allora Poldo O vogliamo fare un altro Di questi Poldo Dimmi Livelli base Ci sono Siamo due a due Ma io ne ho vinta una Io non Io non ne ho vinta Io ho vinto la prima Allora siamo Io Io due Tu uno E Eh sì Io ho vinto Io ho vinto Io ho vinto Potete mettervi meno punti Così io vinco Sono ancora l'ultimate Procione No raga Facciamo Abbiamo tempo Run Mario O Un livello di un vulcano Tempo run Vulcano mi piace Vulcano Sì Vulcano Andate No il vulcano L'abbiamo appena fatto No è vulcano Quello abbiamo appena fatto Boh Sarà la lava Allora ascolta Poldo Puoi darmi delle opzioni valide Oppure devi farmi per forza Passare Il deficiente di turno Che poi Me lo immagino cazzo Sedia che sta nella sua cameretta A dire cazzo Però cazzo Cioè Baron Franz è proprio sfigato Cazzo Bugo grazie per la sua cameretta Sedia non ha una camera No Dove vive Sedia sul pozzolo Col computer Sul pozzolo Con il laptop Perché voi vivete In un edificio Cazzo Ma cosa cavolo No mi schiazza Mi schiazza Mi schiazza Sono effettivamente moruto È un po' complichino Ah che figata Cioè è una roba per God2gameru Ma perché Leo è vivo Perché sono Perché è bravissimo Non vedi come bravo Poro 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 schiacciato ma no ragazzi è perché desincato no perché sta imbrogliando veramente propone lui il gioco e poi vince Completamente desincato io vedo che passa attraverso esatto sono morto e poi adesso è morto Beh ci stavamo troppo insospettendo allora Ma vedete la mia schermata proprio scemo Scrivi di papà Scrivi di buca troia ma siete impazziti scrivi di bambino io sono pazzo sono diverso dall'oro andare sulla lava su questo coso lavoso Ma si può andare Allora adesso si deve andare di Guarda che mi copiano qua come mi copiano no 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 Così di leonardo buoni si stai set Sto a set dai cristo dai come facevi Io scelto la destra la destra per una volta è stata la scelta sbagliata Ma chi è che ha invitato questa persona ragazzi io veramente mi sento a disagio sembra di sentire mio padre Ma no da poldo io ho visto il ti ho visto che ti mangiavi il filo spinato proprio filo spinato in faccia Guarda che ora è morto è morto Cosa ho fatto Media gruppo No ragazzi non sto riuscendo a capire a me non mi piace questo gioco possiamo cambiare è bello dai no è bello fronzo Non mi sta piacendo volete fare quello di prima Giocava League of Legends che tu che sei poldo cannone ora Poldo cannone Ma piuttosto di ammazzare di giocare di Orenda ma Cosa Hai cercato di dire qualcosa Ma perché non l'hai detto Perché vuoi ammazzare paolo cannone Ma che fa la sedia là sopra Ciao Ciao bedo Bedo Sono dietro di voi ragazzi non mi lasciate solo Ciao Ma come 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 Senti fan colori avvio il livello Ok ho capito com'è Io ho capito com'è Pando di mazzardare sono vivo io Scemo Per una volta Allora di qua Se io vado di qua Ho capito come affrontare i miei demoni Bro allora ti guido io sedia vai a destra Vai a sinistra vai a sinistra Scendi Ok ora devi salire Resta qua Sinistra sinistra Vedi quel coso con la calamità Devi salirci sopra e poi scendere subito Dai cazzo ma non mi ha fatto andare Sali e scendi Ora scendi Ma non puoi passare Ah ho capito Dovevi tornare indietro Guarda quel pezzo di Di Leonardo Bru Allora questo è un mega bait E io ci vado Non ha funzionato Ok No secondo me si Vai Leo Detta anche scorciatroia No Esatto bravo Ho giocato a Bensette videogiochi Vai Leo sinistra veloce o muori Vai qua destra Cosa è successo Come si aggrappa la roba Secondo me non sta funzionando No devi tipo andare a destra Non ci passo lì Tieni premuto B per rinunciare Allora torna giù E rimettiti nello stesso posto dove eri prima Per rinunciare Anche nella vita reale Ora a destra Mettiti a destra Mettiti a destra Ora vai a sinistra Vai a sinistra Tu hai giocato almeno a dodici giochi E ora vai a destra E devi No devi andare di nuovo a destra Ora si Vai Leo Vai Leo che ce la fai Ok ora devi andare a sinistra Veloce Veloce Bromoni Ma stiamo divando per Leo Adesso devi un attimino camminare con le tue gambe Leo Ma che cazzo devo fare qui adesso Scendi qua a sinistra Scendi a sinistra Allora fa quello che schiazza Devi scendere Devi scendere a destra Devi scendere e rompere il fatto No devi No Vai a destra di nuovo Destra 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 ho detto Leonardo Che imbecile Livello caricato Nuova partita Io ho le cose nel cervello Adesso vi faccio vedere come si vince Ma grazie mille Di niente Ragazzi non mi fa Non mi fa resettare il livello Quindi dobbiamo vincerlo Vai Leo Tranquillo tranquillo Ora ho visto qual è il pattern È a fiorellini e margherite Stiamo facendo davvero Non me lo fa resettare Amico mio brother Sedia Amico mio? Amico mio brother sedia Brother 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 Siamo i miei Giusto? È di qua ora vero? Sì adesso qua a sinistra Olè Polite Che cazzo Sono un po' con due Capsolo Ciao Ah proprio così? No sedia a non andare Sedia sedia Nooo Ma sei scemo? Sì Mi piace farlo un po' tragica Are you mad bro? I'm a mad? Sapete che io non lo farò vero? No no Prima mi ero buggato qua Prima mi ero riuscito a buggare qua No 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 perché semplicemente qualcuno ti ha aperto il passaggio Era sedia che mi aveva aperto Io non mi ricordo come Non mi ricordo come Come è fatto prima Chi apre il passaggio? Come si fa ad aprire il passaggio? Come è morto Leo? Ma Cristo del Signore Vabbè Sedia tutto nelle tue mani Come è avevo fatto prima Nelle tue mani Allora Devi andare qui a sinistra Tieni premuto a B sedia Vai qui a sinistra Vai qui a sinistra Ah beh Io ascolto la Come ti permetti Come streamer di Facebook Ora scendi E ora sali qua Bravissimo Mi stai baitando per fare la tua cosa E poi morire io No no poi ti aspetto Poi ti aspetto Vai io ora Ora fallo E torni indietro Mi caco No ma c'è la parte lì La parte lì è vuota C'è un buco Sopra Quello che ti schiaccia È buccato Bravo Ora ti aspetto Vai Vai Poldo C'è lo puoi fare Vieni gamer No Ma che fai Sei un pazzo Mi sono fatto la pupu Mi sono fatto la pupu Aspetta Ballo Che sballo Vai ora Sedia Madonna Stavo per morire nei piedi Ce la puoi fare Ce la puoi fare Vieni qua Il teletraspollo Dove sono? No Siamo qua sotto Ah perché se tu sei tornato Nell'hall di Loni Che belli Adesso dovete fare esattamente La stessa cosa Che ha fatto prima Leo Però meglio Ciao Non posso farla meglio Io l'ho fatta perfetta Di gaming È un esperto di gaming Ma anche di Dragon No 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 Non ne capisce nulla Di Dragons Lui Ciao È un po' il messil Ho fatto la pupu Hai fatto la pupu Ehi Come fai a ballare Bravo Deve tenere premuto Il tasto in alto Sedi è stato lasciato indietro Come funziona Devi tenere premuto Il tasto in alto Ok l'ho aperto bro Tornando indietro Sì sì Devi tornare indietro Ma di tornare L'ha aperto Poldo per te Poldo è stato aperto Sei stato molto bravo Ti aspetto Ci siamo fatti una cosa a testa Eh ballo Che sballo Sedia Sedia ce la puoi fare Devi tenere premuto il tasto in alto Puoi dire come si balla Il tasto Il tasto in alto Sedia Il tasto in alto Quello che devi premere Veloci 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 vorrete Wow Che gamer Corri corri Bravissimo sedia Mamma mia Vai finisci Però chi deve arrivare Sono arrivato più Che faccia di merda Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo messo solo 15 minuti Possiamo Hai record Giocare a qualcosa di divertente Adesso per cambiare Torna la casa sull'albero House on the tree Vogliamo fare un livello normale Sai che la casa sull'albero C'è anche nel famoso fumetto Adventure time Che è brutto Che Wow Dissing a un'opera Che piace a tutti Wow Come sei alternativa Ecco ragazzi Perché qualche coglione Ha cliccato modalità sfida Al posto che parti Non guardare me Non lo fare Ho detto C'è anche creativa 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 puoi Non muori Non muori contro i creeper Guardare quando mi faccio la doccia Poggio sei Nella creativa Non muori contro i creeper Cos'è titoli Zero titoli Metti i party Come la Juve quest'anno Ah sono qua a sinistra Oh ma ci sono i titoli Eh noi aiuto Ragazzi aiutatemi Mi prego Fra Perché mi lascia Ti rupano Je ne vi è bleblank Oddio Ragazzi così quasi vado a giocare Al gioco di Gollum Tipo Ok venga Zero titoli Dove andiamo Che mappa facciamo Allora io vorrei Provare foggia Foggia Verso il mare Dai imbecille Casuale Basilicata generica Basilicari 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 No Ah ok Io sono della Basilicata Fake Fake Cerca cabal Creon E poi italiano Sti due difficili Io sono della Basilicoccold C'è proprio In maniera tale Che tutti Allora se in qualche modo Riusciti Cosa stai facendo Sedi Cosa lo metto qua Così Se più salti La gente muore Io direi che si fa così È abbastanza gaming Secondo me Cos'è la scatola Con i punti di domanda Cosa c'è dentro I game Sì Nella mia trovo le tasse Sicuro Sono dei punti di domanda No Achievement È bloccato Giovane Nell'esploratoie Livello scoperto Per un vecchio maniero Ho scoperto un livello Perché Wow Sei un vecchio maniaco Sì Ma come faceva A saperlo il gioco Oh no Dovete distruggere Quel buco nero Buco nero Breaking ball Figurati cabal Oggi è il pride day Cosa state facendo Oggi è il prime Non è il pride Qual In qualche posto Dopo L'arcobaleno Perché mi devi No Cosa fai Arcobaleno 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 Io tolgo il buco nero qua E cosa E poi cosa ne hai guadagnato Poi cosa hai capito Non lo so Infatti No Non lo so Perché Cos'hai capito Poi si tolgo il buco Ah Sei un pezzo Di merda Minchia Lo so Lo so Aiuto No Non funziona Questa cosa Non funziona Aveva quasi Grisciato il matrix Ma chi è che ha tolto La roba centrale No Sono morto Chi è stato L'imbecile Vabbè Chi è che ha tolto Chi è che ha tolto È stato Io non sono stato Ma no È stato Leonardo Ma non è vero No Bucco nero Vaffanculo Sto buco nero Da merda Adesso No Dio Ma siete proprio Stronzi Oltre l'anima Cazzo Oddio Oh Blu Oh Gaming Ma come siete arrivati lassù Ecco Siamo arrivati con la potenza del gamerinos Il berro si raccogliato Il berro si raccogliato Ma io non ho mai detto di essere più bravo di voi Troppo facile A me basta vincere più partita di voi Ma non ho mai detto di essere più bravo Scusa ma se perde uno Come fa a essere troppo facile Sticky goo Sticky goo Sticky poopoo Sticky poopoo Pooppo time Poopo sticky Sticky poopoo Sticky poopoo Hai scoppiato quel canzo di bumero Di merda No No Perché mi hai tolto il mio coso Ti hai tolto il tuo buco Il tuo coso Se ne siamo accorti tutti tranne il berro No Se ne siamo accorti tutti tranne il berro Gamers Che bravi che siete stati ragazzi Siete proprio un esempio Ah però questo qui non l'ha calcolato come troppo facile No Eh perché porto uno Si indica se stesso Potete non citare Bravo 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 Dove lo stai mettendo quella Ce la possiamo fare Ragazzi non è un gioco di Di interior design Cioè Madonna mia Giochiamo dopo il simulatore dell'IKEA Ci facciamo la casa E mo Che imbecille Sballo che sballo Bella berro bravo Ma così Si dovrebbe vincere Se una persona ha le mani È un gioco di pazienza Ma non è di pazienza Ma è un gioco di pazienza Ma come un gioco di pazienza Di pazienza Leonardo È cattivo Questo cazzo di retrocazzo Oh Ma Che hai mangiato a scena Berro fronzo So come prendere in giro Frede scappato in giro Che paura Lo metto qua Lo metto qua No 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 serio Dici se lo deve prendere qualcuno No ma perché Guarda Leonardo Ma come cazzo si fa adesso Blocca il portale Guarda dentro proprio Non posso metterlo sopra Lo metto qua E quindi che l'hai risolto lì Non lo so Non lo so Insomma ragazzi Bleh Bleh Si che ballo Muove la colitta Muove la colitta Muove la colitta Muove la colitta Come ballate Come fate a ballare Devi tener premuto Il Cristo Di Oh Madonna Poldo Quanto Cristo Ho un'erezione in questo momento Ve lo giuro Quanto registra che ho un'erezione Sedia Devi tener premuto Il cazzo di tasto in alto Quindi tipo la Y Muove la colitta 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 Madonna Sedia Si compra i vestiti Da Original Marines È l'unica spiegazione Dance Quindi praticamente Devi solo scegliere Di che morte Devi sperare Praticamente Che quella cosa No Sopra non si può salire Sperare Vuol dire anche Sbuzzare una pera Cosa Geniale Sul cucciolone Tipo Tota Non suicidarsi Durante la vostra Collaborazione Perché ci sono cose Al limite Al limite dell'aspetta Un attimino Che chiamo la guardia Di finanza Te l'è voluto Proprio come Zampitek Noo ho rotto pure Il tetrasporto Goodbye E adesso Oh madonna che vabbèo Ciao Leo Leo Allora Leo Parliamone Potete non essere Cretini Vi supplico Facciamo così Guarda E vabbè boys Cioè volete giocare Bastardo Oh che forte Che sono Mamma mia L'avete voluto voi Ragazzi Mi pervade L'avete voluto voi Ma il mio bello Guarda E basta Cioè veramente Tu ti diverti A fare così Tipo E la chat dice Oh Che bravo Poldo Sei mio padre Aspetta che mi faccio Una pagina Con la tua faccia Come fotoprofilo No vabbè Poldo mio padre Poldo è Di sicuro Quello che uccide Il primo su Among Us Oh la nausea Non so Che uccide il primo Ecco Che forte Che sei Poldo Sei un esempio Per le nuove generazioni Wow Wow Coppiglietti Mamma mia Poldo Meno male Guarda che esiste Io spero che mio figlio Nasca come Poldo Così non avrà amici Che lo criscono Madonna Ma perché dovete No vabbè Ragazzi Non c'è bisogno Di essere così cattivi Cioè nel senso Abbiamo fatto il meme Però Poldo scusa Hai ragione Non ti preoccupare Poldo Poldo Stai piangendo Sì Cosa Scusa Non volevo Era un po' troppo Perché lo metti lì E non più vicino Così tipo Vabbè Qualcos'altro Chi vince Beh guarda Sta vincendo Il più bravo Di tutti All'ultimo Guardalo Che gamer Dai Guarda Sì Io muoio sempre Nei videogiochi Dovete provarci Ragazzi Ragazzi Provateci Vi ricordo Ma vaffan Non ci posso Come ho fatto Questa volta Non è stata così semplice Quindi devi darmi la buona Questa volta Devo togliere le mani Dal controllo Perché sta roba Io non sarei stato in grado Di farla Io sono un vero gamer Ma sta roba qua Non sarei stato in grado Di farla È vero Ci siamo proprio Suicidati Ma No sta roba qua È veramente Al di là di quello Che io chiamo skill Bravo Bravo Skill gamers Stavolta Sapete Allora Adesso Si sposta su un segreto Cosa Sapete che muso Ha accento unizione Su happy fit Happy fit No Furry fit Furry fit Cosa È vero Allora Ultimo livello E poi basta Perché io sto impazzendo Tipo Dopo andiamo a far La pille Non abbiamo sbloccato Il livello È una mia impressione È vero Prima c'era Ma c'era Dov'era Andiamo di qua Andiamo a destra A destra A destra A destra Non c'è niente ragazzi Torniamo a sinistra C'è un casuale Basta C'è per ricordi logica Pure a sinistra Non ci sarà Cosa è il livello D Che pazienza Che devo avere Con te Poldo Veramente Cos'è il livello D Ma che ha fatto adesso Ma quelli sono I livelli custom Da selezionare Che fanno cagare È l'unica a mettere I livelli casuali È messo casuale È preso la fattoria Casuale La fartoria No perché No Ragazzi Ci impegniamo A non arrivare Nessuno Al traguardo Tranne all'ultimo round Con la mappa piena Di cazzate Loro Sono veramente Il più grande youtuber Che la storia Abbia visto Proprio Lo dice anche Il vostro caro Dexter Madonna Madonna Perché siete così cattivi Stasera Io non ho detto niente Ti ho fatto i complimenti Io ho detto Ma che è vero Ma che è vero Ma che è vero Ma ero qua Leo non gli ho fatto i complimenti Ma sì Ma perché non gli ho fatto i complimenti Che bravi cazzo Che bravo Madonna Bravo cazzo Hai visto che bravi Achievement sbloccato Tra il mio spaghetti Ho sbloccato l'achievement Che bravi Complimenti Hai visto che bravi cazzo No No Nell'altra parte del portale No Berro no No Berro no Io sto facendo Il livello Più facile possibile Guarda che bravi Sto semplificando il livello Guarda Ho messo le scale I punticelli Ora spara il raggio Tecnicamente Che bravi cazzo Sì il problema è come ci passi Berro gamer Berro Berro La giocata che tutti erano seguito Wow Tutt'abbiamo seguito Troppo facile Dovevo Dovevo superare La gravità Della gravità E invece Guarda cosa è successo Berro gamer Non è servito niente A fare il gamer Perché Allora ci abbiamo preso insieme Perché Ti ho messo un truccio No dai Allora io metto questo E io metto Oh mio dio Atroce Gamer Cosa Non funziona ragazzi Sai non funziona Mamma mia Wow Devi scegliere solamente Tipo il timing perfetto Vai dice No Non ci credo Se mi accenno Ho unato Dobbiamo Vabbè Non ho parole Vabbè Non ho parole Buconero Ecco È il momento È il momento Buconero No No Perché Ma cosa Cosa ti ha fatto di male la vita Io non lo so Si può appoggiarla Tipo questi Ma ma come devi fare No No Jetpack messi là Buona fortuna Non so neanche come appoggiare Puoi ruotarlo Posso ruotare Sì Tutto può essere ruotato Vai vai Devi ruotare con l'L1 Non lo fare Non farlo Berro fronzo Ecco adesso voglio Cristo santo Ma c'è lei in bot Ah perché Buconero fa curvare le prezze Che vengono deviate Cristo santo Vabbè ciao Degno di un flash game Comunque Oh Pure nel portale Guarda Io adesso mi suiciderò Perché Perché per rispetto Puoi fare la cosa che ho fatto io Puoi fare la cosa che ho fatto io Io non la farò Perché la cosa che hai fatto tu È veramente Troppo 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 geniale Io non lo sarei Ce la puoi fare Ce la puoi fare Adesso Vai berro No Però quasi Sempre in portale Sono stato tipo Folgorato Se andiamo Se atterravo Ma non c'era lo spazio Ragazzi Non c'è spazio Sì che c'è lo spazio C'è Ma non c'è lo spazio No no Guarda Secondo me Ha avuto l'intuizione giusta Leo Leo ha proprio fatto quello Che tutti quanti noi sognavamo Ma No dai Ma perché avete A me non mi piace divertirmi Ragazzi No dai bro Ma se faccio questa cosa Che succede? Ah questa è una bella domanda Fra Guarda che adesso No 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 Personaggio pericoloso Aspettate vediamo che succede Allora queste frecce Sono anche le meteoriti Guarda quasi Se non fosse cazzo che si sbrissia Sbrissero Vai sotto Non so come ho fatto bro Non so come cazzo ho fatto Vai perro Vabbè non è difficile Non è difficile Vai perro Oh bravo 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 Ma primo Primo su youtube Bello flonzo Bello flonzo Bello flonzo Ah mosche di merda Vattene via Ha funzionato Allora devo fare Il poldo O faccio Leonardo Bruno Devo fare il poldo O devo fare Leonardo E lì la parte malvagia E Andiamo Qualcosa che renda la vita facile Cosa possiamo Tipo questa credo Però No 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 Berro no 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 Che è l'unico modo Che è l'unico modo Per farire Sto cercando di capire No Berro no Non lo fare Michelle Obama Vabbè senti bisogna Me togliere questa No No Intanto le origine Buota Berro Fronzo momento Sì vabbè Ciao ragazzi Impossibile Ci sono troppe cose Sembra Kapp Oddio Bro è veramente Tutta quanto Era un momento Di Esatto Quasi Vai Berro Muori Adesso Adesso Ti giuro Ce la puoi fare Ce la puoi fare È il livello finale Di Meta Slug Ma guarda C'hanno pure Le meteoritiche Ma che timing Devi prendere Morto E c'ha nel culo E l'è presa nel culo E c'ha nel culo Damn Porca troia È vincitori Ne vinti Solo Solo Sopra Io metto questo Qui Ma dai Ma hanno questo Tratrasporto Codo Ci devi solo andare Ma come fai Ciao ragazzi Lo sapete Cos'hai fatto Poldo Ma io Hai visto Hai visto Cosa hai fatto Hai visto Bravo No La freccia No la freccia In gaming No Cazzo L'avevo evitata Io non ce la faccio Io non ce la faccio Hai visto come Mi ha schiazzato Il gaming Mi sono proprio Schiacciato le orecchie Dentro la testa La porta Che ne so Il disco Da orecchie Questa Porta aperta Per chi porta Chi non porta Parta pur La porta De porte State bloccando No ragazzi Quel cazzo Di teletrasporto È veramente Una delle cose Più lamere Possibile Ma per Roma Per usare Sto cazzo Di teletrasporto Bloccalo Ah bravo Bravo Adesso C'erano due Piani Di distanza C'erano due frecce Tipo Mettetelo in culo Per condesire Sì ciao Dai sedia Troppe cose Troppe cose Troppe cose Niente Fra Imposibile Troppe cose 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 Frate Cose È strano Che una freccia Tipo effettivamente Passi fino alla fine Berrofronzo Che guarda prima Ma dai Non è vero Ma perché io studio Prima Ma senti voi che partite A cazzo di cane Ma mentre voi andate avanti Non è che Ma noi siamo gamer Ma noi siamo gamer Ma noi siamo gamer Quella parte di vostra Vincere Va bene lo faccio Ma te cazzo Di cose Che ho fatto scoppiare Pazzesco Pupipi Pupipipi Pupipipi Culo ragazzi Culo Pupupipi Tolto Pupipipi Mi sto cacando L'ho preso Ma tutto hai quasi preso il disco da hockey bello fronzo bello fronzo non ci credo ho superato non ancora per due trappole e poi c'è c'è anche la versione di berro fronzo che è un sacco bella ma non serve a granché che è berro fronzolo non l'ho capito bello fronzolo l'hai capita no non l'ho capito madonna questo è bastardissimo porca troia ma no ma non si può fare così raga basta andare dritti non fare i lamer di merda ma come io ragazzi quando una persona vi insegnerà la skill no non lo fa boldo sei desincato fino alla morte te lo giuro cosa sta succedendo ma le mettere vanno nel buco ti sta facendo i buchini guarda ce l'ho fatta vado grazie a quella piatta formina il gamer bravo ok ora salto così e non mi ha preso l'altro saltino non ti ha preso è il vincitore è il vincitore è il vincitore ragazzi questo gioco faccio il refound faccio il refound quanto abbiamo giocato quanto abbiamo giocato chi è che l'ha deciso sto gioco yo chi è che l'ha deciso sto gioco sedia oh ma che c'è ma che vuoi da me molto bello gioco bel gioco ragazzi venite tutti qua sopra per favore aspettate un attimo aspettate un attimo fermi fermi là sopra fermi là sopra siete pronti si si sta arrivando è quasi arrivato secondo me mi tipo segnalano per copyright sono pronti va bene ragazzi grazie per la gritta perfetto io sono stato contentissimo mlg moment esatto mamma mia abbiamo sbloccato due livelli su 19 abbiamo ancora altre nuove live come questa ci vediamo settimana prossima col funerale di leonardo grazie ragazzi ogni volta ogni live con voi leo nuovo nel circolo di queste live stupide mi fa veramente uscire col calore mi sento bollente sto sudando un po' il calore come quello degli animali che malessere adesso posso disinstallare giusto si si puoi poldo mi aveva detto installa il gioco legit e gli faccio certo poldo che lo installo legit si ma legit gli faccio si si poldo tranquillo lo installo legit così posso fare il reso l'apostrofo legit 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 e va bene ragazzi grazie di cuore alla prossima qualcuno di voi continua la live ciao chiappe io gioco un pochino a diablo allora mandiamo da berro tutti da berro fronzo ragazzi spammate le lasciate di berro fronzo fino a quando si intasa così si arrabbi sedia poldo voi dovete dire qualcosa di particolare o potete finire la live quando volete non ho capito non ho capito sedia poldo voi dovete dire qualcosa in particolare tipo annunci cose potete finire la live quando volete io posso finire la live quando vogliamo io saluto di solito allora salutiamo tutti e tre nello stesso momento la nostra chat stando smutati e senza mutare gli altri va bene allora ragazzi volevo dirvi grazie di cuore a tutti quanti perché questo oggi abbiamo finalmente in basso su tutto il paese ce la stiamo facendo vediamo domani con una nuova live le altre persone che pensano di noi siamo un video sono i miei pericolosi ma noi ci muoveremo verso la vittoria sempre e per sempre comunque compagno grazie a me andiamo da berro facciamo un ride con berro mi raccomando mi raccomando mi raccomando fate i bravi e se volete ci sentiamo anche su Instagram puttisclodio arrivederci grazie di cuore e alla prossima arrivederci